www.mesmerism.info Nena! Mitra! Eri, c'è il Dianna! C'è allora? L'obna fu una nuova e ciò non ti ha detto. Non tiravo la panetta, capisciazzo non è tutto il gatto. C'è nessuno? È la Muscina. C'è nessuno? Il Dianna. L'obna fu una nuova e ciò chiamata. C'è nessuno? Mi c'è nessuno? Mi c'è nessuno? C'è nessuno? Il Dianna. Il Dianna, il Dianna. In un altro e rischi. Il Dianna. Ok, il Dianna. Il Dianna. È il Dianna. Il Dianna. Il Dianna. Il Dianna. No, non ho capito. La Commissione ha dato un'acquiettione. Mi ha fatto una cosa, ma non ho capito. No, non ho capito. Non ho capito. Non ho capito. Non ho capito. Non ho capito.